In questa colonne c'erano i leoni, mentre quella là dietro c'erano le statue, quattro statue. Anche nelle colonne successive, più avanti, ognuno aveva su una statua. Esatto, c'erano le catene. Adesso le statue, ci sono le ultime che sono rimaste, credo che siano vicino alla villa, anche se non sono in pessimo stato.